Ciao amici di MTB Mag, bentrovati anche questa settimana con un nuovo Video TechCon. Quest'oggi è la settimana delle e-bike e ci occupiamo di un argomento ultimamente molto molto dibattuto. Batteria da 750, batteria da 625. Qual è meglio? Qual è peggio? Prima di entrare al video all'argomento però come sempre voglio ricordarvi che se vi piacciono questi video potete dare anche voi il vostro contributo alla loro realizzazione. Come? Sottoscrivendo l'abbonamento da supporter che con neanche 2 euro al mese permette di dare un piccolo ma sempre utile contributo alla realizzazione dei nostri video. Bene, entrare al video all'argomento e cerchiamo di capire Bosch 625 e Bosch 750. Quale dei due scegliere? In un primo acchito uno direbbe beh andiamo su 750 perché è più nuovo ma non tutte le case il produttore di bici si sta muovendo in questa direzione ed alcune case stanno addirittura offrendo la doppia opzione. Batteria da 625 o batteria da 750. Noi in quanto rivenditore Orbea trattiamo qui in negozio da Bike Lab proprio una di queste case che ha fatto la scelta. State scegliere voi 625 o voi 750. A livello di telaio, di ingombri di volume se una bici nasce per ospitare una 750 e ospita una 625 poco cambia. Quindi per quanto riguarda le caratteristiche del telaio immaginiamo di avere la stessa bici. E ci troviamo davanti alla scelta della possibilità di mettere una o l'altra batteria. La batteria per chi non la conoscesse è questo elemento qua. Questa è la classica Power Tube Bosch da 625. È proprio una batteria che ho tirato giù due minuti fa da una Orbea Wide, la versione 2022 quindi solo col 625. Ed è questa specie di cartuccione che al suo interno contiene le celle. È un case in alluminio, bello robusto ovviamente, ben sigillato che non entri l'acqua. E con un peso veramente importante, adesso dal video non vi rendete conto, ma a tenerlo in mano con la sua mano si fa fatica. È infatti uno degli elementi più pesanti di un sistema e-bike insieme al motore. Parliamo di numeri, numeri alla mano. La batteria, questa qua da 625, pesa 3,5 kg, 3.500 grammi. La batteria da 750 wattora pesa 4,3 kg. Quindi abbiamo 800 grammi di differenza. E non è poco, attenzione ragazzi, 800 grammi è un peso molto importante. Diventiamo pazzi per tirare via 50, 100, vabbè, sulle bike magari 200 grammi su un componente e poi ci carichiamo 800 grammi di zavorra. Non è poco. E infatti è proprio qui il punto della situazione. La batteria 750 da un lato ci dà più autonomia, dall'altro però pesa di più e pesa tanto di più. A livello di prestazioni, immaginiamo che i dati sulla capacità siano reali. Quindi immaginiamo due batterie che effettivamente abbiano 750 e 625 wattora di capacità. Capacità nominale che non sempre coincide con la capacità reale. Quindi immaginiamo di trovarci con due batterie con la capacità reale che coincide con la nominale. Qual è la differenza tra una 750 e una 625? Beh, parliamo di 125 wattora. 125 wattora non è tanto. Se ci pensiamo, facciamo un raffronto su una 625 e parliamo di un sesto di capacità in più. Se il raffronto viene fatto su una batteria da 750, quindi parliamo di un settimo di capacità in meno. Quindi non è una differenza tanto così importante. Sicuramente però lo può diventare per darci quel tot di centinaia, quei tot cento metri in più che ci permettono magari ad arrivare alla fine. Prendiamo però in considerazione un altro fattore. Questi 125 grammi in più, scusate, questi 125 wattora in più corrispondono a 800 grammi in più di zavorra, di peso. E questi 800 grammi richiedono un maggior quantitativo di energia per poter essere portati in cima. Quindi in salita è palese che a parità di condizioni esterne di rider, bici, terreno e tutto, una bici con 750 consumerà di più rispetto a una bicicletta con il 625 e 800 grammi in meno. Questo ci insegna la fisica. C'è più peso a portare su, serve più energia. E l'energia arriva in questo caso dalla batteria, se ipotizziamo la spinta all'ausilio del rider sempre costante. Quindi di questi 125 wattora quanti ce ne rimangono realmente? Beh, è difficile fare una stima perché bisognerebbe fare delle prove, dei calcoli un po' più precisi perché poi dipende dall'autonomia, quanto si sta facendo di salita, ma in linea di principio possiamo dire che l'effettivo incremento di capacità è al di sotto tranquillamente, e qui ci posso mettere mano sul fuoco, dei 100 wattora. Quindi è vero che abbiamo qualcos'è in più, ma non così tanto come ci potremmo aspettare. Il peso extra, quindi questi 800 grammi in più, naturalmente non incidono solo sul consumo, ma incidono anche poi sul peso complessivo della bici, sulla sua maneggevolezza, sulle prestazioni discesistiche, che magari siano dei rider a cui piace scendere e quindi vogliamo anche una bici che vada bene in discesa. Quindi ci rischiamo di trovarci poi veramente con una bici un po' più impacciata, un peso difficilmente sotto i 24 kg, 23 se proprio andiamo su versioni carbon molto ricercate, e quindi una bici tutt'altro che leggera, che ci va ovviamente a penalizzare in parte anche in discesa. Quindi a sommi capi, perché andare su una batteria da 750? Beh, la mia risposta è palese. Se non ci basta la batteria da 625, il 750 ci dà quel pochettino in più. Ma se siamo invece dei rider per cui la 625 è sufficiente, perché mai dovremmo andare su una batteria da 750? Quindi per cui la scelta della batteria da 750 non deve essere dettata solo dalle mode, ma deve essere una scelta soggettiva, che a mio giudizio va lasciata al rider. Se io sono un rider che non è eccessivamente pesante, ho un minimo di gamba, e sono in grado di portare a casa dislivelli interessanti già col 625, cosa ve ne faccio della zavorra del 750? Porterei peso, sporterei solo più peso extra. Se invece sono un rider che finisce a 625, allora quel pochettino di capacità in più potrebbe effettivamente fare la differenza tra fermarmi a 200-300 metri dalla cima con la batteria scarica e da arrivare in cima con la batteria ancora carica. Non è tra l'altro un caso che in ambito race difficilmente troveremo atleti che corrono le IWS o gare di livello di e-bike con la batteria da 750. O veramente serve quell'extra di autonomia in più, o a parte di un giro dei paddock, vedete che quasi tutti i rider cercano di tenere la bici quanto più leggera possibile, perché è matematico che bici leggera significa bici più veloce, più guidabile, più performante in discesa ma anche più maneggevole e gestibile in salita. Non è un caso quindi che quasi tutti i rider che usano Bosch all'IWS utilizzino il 625, eventualmente tra l'altro considerando anche il fatto che nell'IWS è previsto il cambio batteria. Quindi, se siete in procinto di acquistare una e-bike col Bosch di nuova generazione e vi trovate davanti alla scelta 750 contro 625, bene, sappiate che siete voi che dovete fare la scelta in base alle vostre esigenze. Siete dei rider molto pesanti e poco allenati? Fate giri con tanto dislivello per cui la batteria è sempre agli sgoccioli? Bene, andate sul 750. Siete dei rider più tecnici che cercate più prestazione, volete maggior prestazione di scesistica, volete una bici più snella, leggevole e maneggevole? Avete una buona gamba e quindi non avete bisogno di grandi capacità di batteria? Perfetto, la 625 è la batteria che fa per voi. Insomma, avete capito che non sono un fan delle batterie troppo grosse. Ma perché? Personalmente ve lo dico proprio in maniera trasparente. Io sono quello che con la batteria 625 torna a casa con metà batteria ancora disponibile e quindi mi sto portando veramente un sacco di zavorra con me. Ma voi direte, tu pedali, è vero. Però pensiamo all'usotipo. Quante volte veramente abbiamo bisogno di batterie con così tanta capacità, 750, 720 e via discorrendo? Se facciamo un'analisi di coscienza, magari ci rendiamo conto che nei nostri giri il 70, l'80% delle volte ci troviamo a fare i giri corti e quando ci serve la batteria, tanta batteria e poi in realtà poche volte l'anno. Infatti io sono un grande fan dei range extender, quelle batterie supplementari che hanno un vantaggio enorme che è quello di poter essere messe e poter essere tolte. permettono quelle volte, magari sono cinque volte l'anno per qualcuno, per un altro sono due, per un altro sono dieci, di avere un'autonomia supplementare per quei giri epici, montagna, lunghissimi, dove vogliamo veramente tanta batteria. Ma al contempo, quando giriamo, facciamo l'uscita di due, tre, quattro ore, possiamo goderci una bici più leggera. Il problema è che i range extender, se non quelli proprio ufficiali della casa, soprattutto su Bosch, sono un po' critici da utilizzare. Non abbiamo un sistema smart, intelligente, che ci permette di dire consumiamo prima l'extender e poi la batteria interna, solitamente si parla di batterie parallelate. Quindi secondo me un ambito futuro di sviluppo sarà proprio questo, dei range extender, batterie più limitate di capacità, eventualmente una batteria supplementare, magari anche interna al telaio, che quindi non ne rovina l'estetica, rimanendo integrata, ma anche posso mettere o togliere a seconda che io faccia un'uscita più lunga o voglia fare un'uscita più corta e quindi voglio godermi una bicicletta più snella e maneggevole. Bene, detto questo vi saluto, vi do appuntamento a settimana prossima e vi ricordo che se volete venirmi a trovare, mi trovate sempre qui da Bike Lab, via Venezia 11 a Beinasco, a due passi da Torino, proprio siamo al cambio del comune, mentre se volete continuare la visione, qui e qui trovate altri video correlati. Ciao a tutti e appuntamento a settimana prossima.